...paolo di Napoli, finito con il successo per 3-0 del Napoli che quindi dopo... Maradona, insomma, risputtare la Coppa delle Coppe in campo europeo. Ecco Maradona, lo scambio, lo scatto in proponità ancora di Maradona, il... ...conquistato dalla formazione napoletana. E ancora Maradona in possesso di palla. Tenta di Argentino e affidato a Di Carvi. Ecco ancora Maradona, attaccato proprio da Icardi. De Napoli. Bello il suo attraverso, con metti nel palo laterale. Maradona. Romano Maradona. De Napoli. Carnevale Maradona. In marcatura gentile. Ecco appunto Maradona che tocca splendidamente a... ...pallo di Gentile su Maradona. Micidiale sinistro. Sulla barriera. Ferrara. Tenta il dribbling sulla ribattuta Maradona. Il suo attraverso nel colpo di testa di... ...la prestazione di Maradona. Nell'epidemia nazionale argentina stasera ha già fatto... Ecco Giordano che riceve da De Napoli, dall'indietro a Maradona. In dribbling. In sinistro, fiondato. Maradona così pimpante ed efficace questa sera. Alleggio Maradona. Gentile. Lo attacca Maradona e gli soffia all'one. Lo stesso Gentile poi... Angolo battuto da Maradona. Lunghissimo il traversone. Il colpo di testa di Carnevale. La palla per Maradona. Fuori gioco di Maradona. Maradona di gol. Non si può parlare nemmeno di gol annullato. Colpo di testa di... Gentile. Maradona. Cross. Stasera sta dimostrando che il gioco passa sovente attraverso i suoi piedi. Ma osserviamo Maradona che è costretto all'azione isolata e a... Libido. Poi Maradona. Ancora Maradona. In mezzo. Carnevale ribattuta. ...della sua squadra. Intanto c'è il pallone in possesso di Maradona che lo dà benissimo. La finita... Il tocco anzi di Maradona per Giordano. Poi Maradona. E poi... Vediamo. Vedete il passaggio di ritorno. Maradona che anticipa Rossi. Poi tenta il tocco. Rossi. Icardi. Maradona che gli ruba la palla. Maradona. Maradona che la dà. Giordano. Giordano che passa. Per un breve inserto pubblicitario. Dopodiché... ...quanto era nelle loro possibilità. Ma così facendo l'Atalanta si è scoperta. Maradona. Surplash di Giordano. Combinazione con Maradona fermato da Progna. Maradona. Maradona. Bigliardi. Maradona. Maradona. Stromberg. Maradona. Che prima resta di pezzo. Poi puro. Ovviamente l'invasione. Giordano. Giordano per Maradona. Colpo di tacco ancora per Giordano. impegno è anche per qualche giocata di alto valore spettacolare. Nella ripresa è stata soprattutto ad osservare. Vedete però che Maradona quando entra in possesso di palla. Ferrara. Ferrara al limite. Ma c'è Maradona in possesso di palla. Maradona. Tiro ribattuto. Poi... riesce sempre a rendersi pericoloso. Maradona. È il suggerimento da Maradona. Avete visto la finta di Maradona. Giordano lasciato di Maradona. E Giordano che mette dentro a colpo sicuro... compagno Maradona. Anche da una disattenzione difensiva con Giordano che ha messo in gollo. Fischio dell'arbitro a braccio tra Giordano e Maradona. Protagonisti dell'azione che ha regalato l'ennesima vittoria stagionale al Napoli. Napoli che conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto. No, 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 vissiamo in... Abbiamo meritato il campionato così. Credo che facciamo un bel campionato anche lì. Vediamo insieme questa Coppa, Diego. Grazie a tutti.